buongiorno oggi è il 29 maggio e quindi non si può cominciare a parlare di juventus o di altri argomenti diciamo prettamente calcistici senza ricordare che il 37esimo anniversario di quella tragica strage dell'aisel quindi chiaramente il pensiero va a quegli avvenimenti ai familiari delle vittime e sempre alla speranza che non succeda mai più una roba del genere rientriamo nei nostri argomenti un'altra precisazione di tutt'altro tipo assolutamente di tutt'altro tipo per dovere morale mio e coscienza professionale naturalmente devo rettificare quanto detto ieri e anzi scusarmi perché ho preso il tabellino della finale coppa italia mi sono confuso con la supercoppa italiana effettivamente in quella occasione l'inter tirò in porta molte più volte della juventus anche se non in maniera magari così pericolosa però effettivamente il tabellino è completamente diverso quindi mi scuso con tutti in particolare con la persona che non ho citato ieri e non la cito nemmeno adesso ma comunque che mi aveva fatto notare che in supercoppa l'inter era stato superiore quanto a tabellino poi non si disse più di tanto sul piano del gioco però giustamente il tabellino dice ben altre cose e quindi chiedo vegna mi sono sbagliato ammetto l'errore e chiedo scusa c'è un altro tabellino da esaminare ci sarebbe un altro tabellino da esaminare agi anzi c'è perché noi proseguiamo ed è quello di quella assurda sconfitta della juventus in casa contro il sassuolo la seconda dopo quella con l'empoli e se andate ad esaminare anche lì un po la situazione vi rendete conto insomma che era una sconfitta evitabilissima che la juve parte molto bene colpisce anche un palo con dibala con il portiere battuto effettivamente c'è una bella occasione di berardi è bravo perina sventalla in calcio d'angolo ma poi insomma è una juve che per la prima mezz'ora concede ben poco al sassuolo poi prende il gol di frattesi potrebbe pareggiare nel secondo tempo con chiesa che ha un'occasione colossale sul colpo di testa la palla esce di poco ci sono altre occasioni pareggia con mckenny e poi prende il gol di maxin lopez proprio nell'ultimo istante su un contropiede sconfitta evitabilissima ma sconfitta evitabilissima ma sconfitta perché poi alla fine è il risultato del campo quello che conta però devo dire non una brutta juve quel giorno mi sono riguardato anche le immagini le occasioni create la molla di gioco sviluppata insomma non una brutta juve quel giorno con un tabellino tra l'altro a favore ma ripeto il risultato è quello che conta e mi dispiace devo ricordare ancora una volta a chi ha denigrato il real madrid ieri sera ho sentito un sacco di commenti quest'oggi scandalo il solito culo di ancelotti il live pool ha fatto la partita il real madrid l'ha vinta ma ragazzi ma la finale di champions la si gioca per vincerla o per giocarci bene dentro onestamente cioè io chiedo perché poi dopo insomma è facile farsi prendere no da questa insana coerenza con l'idea che nel calcio bisogna per forza divertirsi e dire certe cose insomma ragazzi io credo che i tibus di Real Madrid siano stati molto contenti ieri ribadisco questo concetto e che non lo sia stato così tanto Seferin per esempio di dover consegnare una coppa a Florentino Perez diciamo non materialmente no ma moralmente anche se poi si sono manifestati segnali distensivi tra le due parti almeno stando alle parole di Florentino Perez però insomma ragazzi cioè conta quello eh conta portare a casa la coppa eh e non c'è niente di male nel dire che una squadra ha sfruttato un certo atteggiamento facendo sfogare quell'altra e poi colpendola due volte perché la prima volta a me lascia ancora molto perplesso quell'annullamento del gol di Benzema ma questo è il calcio ragazzi questo è il calcio ci possiamo riempire le parole di tante eh la bocca di tante parole ma poi alla fine stringi stringi conta quella roba lì stamattina mi sono occupato della questione eh che è una questione se vogliamo molto chiara molto chiara ci sono anche le parole di Ramadani eh a breve ci sarà un incontro con De Laurentiis Ramadani ha ehm voluto assolutamente premettere che eh non c'è nessuna trattativa in corso con altre società che eh lui tratta solo con i Napoli certo che le premesse fanno pensare ad una rottura le premesse quali sono? queste indiscrezioni sull'offerta di Laurentiis dimezzata tre milioni anziché i sei sei e mezzo circa percepiti eh dal dal giocatore quella dichiarazione di Laurentiis che dice noi non obblighiamo nessuno se qualcuno vuole andarsene via ma poi c'è tutta quella questione morale lì ragazzi sono due questioni morale ed economica c'è quella morale no eh che riguarda Coulibaly sono otto anni mi ero perso questo dato otto anni che Coulibaly è a Napoli cioè è un napoletano è napoletano cioè dopo otto anni ma anche prima perché poi lì dentro quella è una città che ti prende che ti coinvolge è molto passionale è normale che uno si possa fare delle remore eh cioè lui non ha mai espresso questa cosa anche se da Napoli arriva un'indicazione in questo senso ma è anche normale che un giocatore che ha vestito per tanti anni una maglietta del Napoli eh si senta un po' trattenuto dall'idea di poter vestire quella della Juventus eventualmente poi c'è quella economica non vale più 100 milioni ne vale 35 ma sono tanti la Juve ne deve spendere di soldi quest'anno è vero che Pogba e Di Maria se arrivano arrivano a costo zero ma comunque hanno ingaggi importanti perché la Juve starebbe per chiudere tra l'altro per Pogba mi dicono sette e mezzo netti più bonus Di Maria sette più bonus cioè ragazzi non sono come si dice noccioline sono sempre soldi e per altri giocatori i soldi li devi tirare fuori perché Kostic cioè il nome in testa costa 15 milioni ok Udoge siamo lì tra i 10 e i 12 13 e poi è vero ti arriva il riscatto di Kulibaly scusatemi di Kuluseski è vero ti arrivano altri soldi ma attenzione cioè 35 milioni o addirittura 40 per un giocatore che va a scadenza l'anno prossimo sono un investimento importante e poi attenzione ci sono Chelsea e Barcellona interessati a Kulibaly quindi non ci si faccia prendere da certo tipo di entusiasmo si vigili sulla situazione perché? perché la Juve comunque sta lì attenta vede ci sarà un incontro a breve tra Ramadani e Kulibaly dopodiché se la rottura sarà ufficiale allora potremo potremo fare quel passettino in più capire se effettivamente c'è la possibilità che la Juve vada a trattativa per questo giocatore sarebbe un colpo pazzesco per la Juve per carità è una coppia centrale formata da Kulibaly e De Ligt però è un sarebbe è un condizionale ancora grande come una casa vorrei che questo fosse chiaro ci vediamo questa sera con il prossimo video iscrivetevi al canale ciao